a pardelle con un ragù di cinghiale fate questa ricetta resterete stupiti iniziamo per prima cosa taglio la carne a pezzettoni poi la metto in un contenitore ed aggiungo carote cipolle sedano pepe nero alloro salvi e rosmarino aggiungo il vino rosso copro e lascio marinare per almeno 12 ore quando la carne sarà pronta la tolgo dalla marinata e lascio bene con carta astorbente la taglio a pezzetti più piccoli metto l'olio in un tegame capiente aggiungo l'aglio e le erbe aromatiche e poi una volta che avranno rilasciato i loro oli essenziali tolgo tutto aggiungo carote sedano e cipolle e faccio rosolare per 10 12 minuti una volta appassite bene le verdure metto il concentrato di pomodoro triplo faccio cuocere per un paio di minuti poi sfumo con il vino rosso ed evaporato il vino metto la carne un paio di minuti dopo aggiungo il brodo vegetale bollente copro a soffietto e faccio cuocere per due ore a fiamma bassa passate due ore spengo e grattugio un po di cioccolato fondente aggiusto di sale e pepe salo l'acqua e metto a cuocere le pappardelle ed una volta al dente le passo in una padella in cui ho messo buona parte del ragù faccio insaporire bene poi aggiungo un po di parmigiano filo d'olio e vado subito ad impiattare guardate qua squisite